Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su YouTube. Oggi faremo un altro esercizio su Assembly. L'esercizio di oggi consiste principalmente di scrivere un programma, in linguaggio RISC-V, che carichi tre numeri interi su T0, T1 e T2 e poi inserisca il valore massimo tra i tre nel registro T3. Incominciamo subito. Ok, come prima cosa incorporiamo la direttiva global, quindi facciamo start per indicare la sezione dove inizia il main, poi inoltriamo anche la direttiva text, facciamo la sezione start dove diciamo, quindi carichiamo, facciamo il load immediate di tre valori, che mettiamo in T0 con un valore 10, T1 con un valore di 12 e T2 con un valore di 14. Dopo aver fatto ciò, inseriamo anche la condizione, quindi la dichiarazione condizionale. La logica che ho intenzione di utilizzare per questo algoritmo è di calcolare quale di questi due valori è il più grande, poi inserirlo in T3 e poi controllare il T3 con il T2 e per determinare il valore più alto di questi tre. Facciamo un branch less or equal, eccolo qua, di 0 con T1 e lo mandiamo nella condizione numero 1. Se questa condizione risulta vera, quindi T0 è più piccolo, insomma, di T1, quindi T1 diventa automaticamente il valore più alto, quindi lo mettiamo dentro T3 e subito dopo diciamo anche magari un jump nella seconda, secondo if, chiamiamolo così. Qua lo chiamiamo primo if. Invece, se non fosse stato vera, quindi questa condizione sarebbe stata falsa, avremmo detto che T0 sarebbe stato il più alto, quindi T0, 0. E poi gli diciamo anche jump secondo if. Dopo aver fatto questo, possiamo scrivere anche il secondo if, dove facciamo sempre la stessa identica cosa, ma stavolta con T3 e T2. Ok? Qua scriviamo condizione 2. Cosa facciamo? Qua facciamo condizione 2, dove se T3 è più piccolo di T2, quindi allora diventerà T3 diventa T2. Jump end. E per quanto riguarda invece l'altra condizione, quindi non è vera questa qua, T3 rimane il più alto di tutti, quindi facciamo così, facciamo T3 di 0, rimane invariato. Jump end. Dopo aver fatto ciò, dobbiamo anche fare la parte finale, quindi end. Allora, qua avevo anche intenzione di stampare il valore magari nella console, e lo possiamo fare tramite questa funzione qua, quindi se andiamo su syscall, vediamo che c'è il print, se non mi sbaglio dovrebbe essere questo, quindi qua facciamo, carichiamo il registro A7 con la richiesta numero 1, ok? Poi facciamo un add di A0 con il valore che vogliamo stampare, quindi T3 in questo caso, e poi mettiamo 0, poi ovviamente la chiamiamo. E inoltre, come ultima cosa che vorrei fare, è quello di concludere l'esercizio, quindi richiamare l'uscita. E per fare ciò basta fare un add di X17 con il valore del registro 0, e richiamiamo il valore 10. Facciamo un altro e-call. E aspettate che scrivo tutti i commenti. Ok, come potete vedere ho appena finito di fare i commenti, ho cercato di essere il più chiaro possibile, e controlliamo se funziona. Ok, funziona, adesso non sono sicuro se funziona perfettamente, controlliamo subito, quindi vediamo un po'. Andiamo avanti, vediamo che in T0 viene assegnato il valore 10, T1 viene assegnato 12, T2 viene assegnato 14. Dopo aver fatto questo, ci mostra, insomma, che entra qui, e assegna come valore più alto, all'interno di T3 viene assegnato il numero 12, che è il più alto tra i primi due, è corretto. E dopo, come possiamo vedere, viene assegnato il 14, perché fa il secondo if, trova il valore più alto. E poi lo stampa, ok, vediamo 14 qua in basso, e finisce l'esercizio. Ok, però io voglio controllare se funziona anche per gli altri, quindi se io qua magari scrivo 21, cosa sarebbe successo? 21, avrebbe stampato 21, infatti se io ricontrollo, rimane sempre 21 perché è il più alto di tutti, ok. Mentre se io provo a mettere il terzo, invece, 34, cosa succede? Ok, come possiamo vedere, anche il 34 si risolve senza problemi. Perfetto, questo esercizio era principalmente per calcolare il valore più alto tra tre variabili, e abbiamo iniziato anche ad utilizzare la funzione jump, che ci permette di saltare in altre parti del codice. Perfetto ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo esercizio, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, così potete rimanere sempre aggiornati, mettete like, di commentare se avete dubbi, e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao!